Ciao a tutti e bentornati nel mio canale Come avrete notato ho cambiato la intro Perché in questo periodo sto cambiando un po' di cose Quindi mi andavo a cambiare anche la intro Iscrivetevi al canale, lasciate like e attivate la campanella che sta vicino al test iscriviti E niente, seguitemi su Instagram E iniziamo subito con il video E' proprio formidabile questa cosa Ora che io faccio il video, dopo tre mesi che non li faccio, fanno i lavori Ditemi se è normale sta cosa Questo video si tratta delle mie vacanze Non mi veniva la parola Delle mie vacanze Vi parlerò un po' di questa settimana Che andrò a fare in questo posto Che purtroppo non potrò dire Se no mi stalkerate No, vabbè, è proprio così Perché voglio che è tipo una sorpresa Che è troppo bello Non perché mi stalkerate ovviamente Ma perché voglio tantissimo che fada sorpresa Parto domani Yeah Parto appunto domani Perché le cose due volte non importa Comunque parto domani Non vedo l'ora Perché parto con mia mamma E basta Yeah E come avrete visto nelle foto precedenti Perché ve l'ho messa all'inizio Nella intro Vi faccio vedere le mie valigie Cioè le mie borse Perché c'è una valigia rosa E poi ci sono delle borse Comunque Nella prima borsa Ehi quando Aspetta Aspettate quando ho fatto così Nella prima borsa Che è tipo un zaino Grigio Quello che usavo anche per il centro estivo Che però ora non ci vado più Mi mancare Comunque Ho messo le cuffie Troppo belle perché Per esempio Tipo mi devo ascoltare la musica E mia madre sta dormendo E io Hi baby I got Tipo così Kiki Do you love me? I'm running Vabbè chi fa la Kiki Challenge Io non l'ho mai fatta Purtroppo Non l'ho mai fatta Appunto ho messo Le cuffie troppo belli Che sono militari E rosa E anche nere Poi ho messo Il bastone per i selfie Perché Casomai Devo fare i selfie al mare Devo inquadrare anche il mare Però ci sto aiuto avanti Quindi Cioè in verità Mi sa che noi non andiamo al mare Ah no scherzo Andiamo al mare Però c'è anche la piscina Yeeeh Kiki Credo Però è un residence Quindi ci dovrebbe stare Che poi è viola Che è il mio colore preferito Yeah Registrerò anche con questo Se lo faccio bene Se no Tipo Mi si vede male Poi qua dentro Ho messo anche questo Che è un po' già telefono Praticano Metti per così Yeeeh Che è sempre viola Troppo bello Eri la mia persona Dell'universo Si è troppo bella Questa canzone Di Nicole Space Che Ve la taggo qua Yeeeh Nicole Space È troppo brava a cantare E la persona dell'universo Io la adoro Ok Sono finite le cose Da mettere dentro Ma Io Metterò Dopo il video Ovviamente Metterò anche questo Che mi servirà molto Oddio Ok Come avete visto A un certo punto Non si sentiva più l'audio Ed erano successi Un po' di casini Però Continuiamo comunque Ci sta Questa borsa Che è troppo bella Perché è a forma di conchiglia Dentro ci dovrebbe stare Un asciugamano Che si apre Tutta la conchiglia Super stupendo Però Io ci metterò Questo Perché Sono tipo Crocierba Perché se sto tipo Al mare Non so che cosa fare Quindi Poi Non sono vecchia Quindi Non è che Mi porto questo libro Perché Voglio cucinare i miei nipoti Però È perché mi piace troppo Cucinare Assoprattutto i dolci Quindi Qua ci sono Qua ci sono Molti dolci Guardate Ci sono molti dolci Che potrò cucinare Anche con voi Yeee Ok Mi era preso un colpo E Poi Ci metterò Anche questa penna E questo foglio Perché A che cosa Mi serviranno Semplicemente Questa La penna Mi servirà Anche per fare i puzzle Ma anche per scrivere Un diario Perché Con questi fogli Ci farò Un piccolo diario Che poi Vi andrò a leggere Alla fine Della mia vacanza Grazie Ok E come avrete Notato Nelle foto Di prima Che vi ho messo Nella intro Ci stavano anche Queste due borze Questa è la valigia Perché Tipo mia madre Perché Che cosa sto facendo Con il telefono Comunque perché Tipo Là ci stanno i vestiti Ma io sto usando Tutte le borze Stiamo usando le borze No le valigie Poi Ora mi è venuto in mente Che tipo Prima ho fatto Una transition Quella là Che si fa così Stoppi Poi la fai così Perché Tipo Fighissima Però Cioè Perché farla così Non lo so Quindi non domandate Io faccio cose stupide Niente E Quindi domani Vi dovrete Cioè Se riuscirò Magari Vi potete gustare Il mio vlog Perché Domani inizierà Il vlog Perché durerà Da domani Fino a domenica Credo Magari domenica Mattina E poi Non so Scalerò Di un giorno Non lo so Precisamente Ma domani Il vlog Della partenza Si starà Per forza Quindi raga Spero che questo video Vi sia piaciuto Perché io Non so Ho capito che è il mio video Però a me piace tanto E quindi Non vedo l'ora di domani Vi dirò la destinazione E quindi Niente Ci diamo Domani E Ci diamo domani Ciao Ok Io subitamente Non mi sono ricordata Di dirvi Che registrerò Un po' Anche con la Telecamera E quindi Niente Vi farò vedere Anche un po' I video Con la Telecamera Quindi Scusatemi Ma questo È il vero Bacio E quindi Ci diamo domani Ciao 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 Ciao